In votazione dell'articolo 11, votazione aperta. Ci siamo? Tartaglione, Ferrara. Perlinghieri. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Votiamo adesso l'articolo 11 bis. Dichiaro aperta la votazione. Ci siamo? Moscat. Colletti. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora all'articolo 12. C'è un solo emendamento ormai rimasto. 12.12. Relatore, parere contrario? Non ci sono pareri favorevoli. Quindi è quadrere contrario. I due relatori di minoranza. 12.12. Daga. Mi rimetto all'aula. Favorevole. Perfetto. Governo. Conforme al relatore di maggioranza. La ringrazio. Dichiaro aperta la votazione sul... Onorevole Daga. Prego. Chiedo scusa. La ringrazio, Presidente. Vede, questo emendamento l'ho presentato... Colleghi, per favore. Prego, onorevole Daga. Perché in questa prima parte, insomma, dall'articolo 12, si inizia a parlare dei servizi pubblici locali. C'è qui, nell'articolo 12, al comma 1 punto C...